Questo video riguarda i migliori 3 Autoradio 2D in qualità-prezzo. Il vincitore della qualità è l'Uidifi Autoradio. GPS incorporato. Supporto navigazione online-offline. È necessario scaricare le mappe prima di utilizzare la navigazione offline. Quiwego App, Scaricare mappe. Supporto per la connessione Wi-Fi hotspot del telefono cellulare. Altre app online disponibili per il download. Sincronizzazione dello schermo del cellulare sullo schermo dello stereo. Supporto iPhone sotto iOS 15 connessione wireless. Supporto Android 4.0-11.0 connessione cablata wireless. Chiamata telefonica a viva voce Bluetooth. Riproduzione di musica Bluetooth. Ricevitore radio FM RDS. Modalità di effetti sonori multipli e regolabili. Un autoradio. Una telecamera posteriore e cavo AV da 6M. Due cavi di alimentazione 36 pin più 40 pin. Uno CAN-Bus. Una antenna GPS. Un cavo antenna radio. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Odozio Autoradio 2 DIN. L'ultima lettore multimediale per auto Android 11 da 10,1 pollici a 2G RAM e 32 GB ROM. Schermo digitale in vetro temperato 2.5 D, alta risoluzione 1024 x 600, supporto display 1080p. Dimensioni. 250 asterisco 145 mm, stereo per auto A2 DIN universale adatto per la maggior parte delle auto A12V. Autoradio Android con GPS. Mappa offline in Here We Go. Connessione Wi-Fi hotspot. Puoi goderti la navigazione online offline. Altre applicazioni Android sono disponibili per il download, l'installazione e l'eliminazione nel lettore dell'auto. Bluetooth 4.0 integrato, supporto per chiamate in viva voce, musica Bluetooth, sincronizzazione della rubrica. Sintonizzatore radio FM RDS, stereo di alta qualità, in grado di cercare i canali in modo completamente automatico, in modo semiautomatico e in modo accurato. Programma del pulsante del telecomando del volante originale dell'auto supportato, più comodo per controllare l'autoradio durante la guida. Il vincitore del premio è il Podofo Autoradio 2 DIN. L'autoradio con schermo capacitivo da 7 pollici per auto supporta Apple CarPlay e Android Auto, connessione in secondi, nessun ritardo. Telefono cablato per utilizzare app, contatti, navigazione mappe, musica, eseguire comandi vocali. Supporta l'utilizzo del Bluetooth per collegare telefoni cellulari, chiamate in viva voce e riproduzione musicale. Supporta la radio FM, fino a 18 stazioni radio di diversi canali. Premere a lungo per salvare automaticamente le tue stazioni preferite. Supporta il collegamento di mirroring cablato del telefono cellulare iOS Android, trasmette il telefono cellulare alla radio per guardare video, utilizzare applicazioni mobili, ecc. La radio full touchscreen supporta 7 tipi di pulsanti con illuminazione regolabile. La ricarica rapida del telefono cellulare supporta la scheda SD, la riproduzione video, l'uscita audio RCA, il doppio ingresso dell'adattatore USB 2.0, l'impostazione dell'ora, il cambio dello sfondo, ecc. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.